Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo l'onore di presentare un bellissimo saggio appena pubblicato da Salerno Editrice dal titolo Boccaccio e l'invenzione della letteratura italiana tra Dante e Petrarca di Martin Eisner e lo facciamo insieme al curatore che è Corrado Bologna e a Lorenzo Fabiani. Quindi io come mia abitudine non rubo altro tempo e lascio subito la parola a Lorenzo. Prego Lorenzo, a te. Grazie mille, grazie dell'invito. Oggi presentiamo questo libro di Martin Eisner che Corrado, Bologna e Dio abbiamo curato e tradotto. Allora partirei intanto dal titolo. Il titolo che è stato tradotto e rappresenta la traduzione letterale del titolo che già l'autore aveva scelto in inglese e mi soffermerei un po' su qualche parola di questo titolo che può davvero introdurci un po' nel cuore del tema, nel volume e darci un po' una chiave per affrontare un po' il discorso legato a questo saggio. Le parole che vorrei mettere un po' in evidenza sono una nel titolo e l'altra nel sottotitolo. Quindi Boccaccio è l'invenzione della letteratura italiana e direi che qui la parola su cui fermare un attimo l'attenzione è proprio invenzione. Nella nostra premessa, questo volume, abbiamo un po' ragionato sul modo in cui va inteso questo termine e abbiamo pensato che andasse un pochino, anche autorizzati poi dal contenuto del volume ovviamente, andasse inteso nel senso quasi tecnico che questa parola assume nella retorica classica, laddove l'invenzio va intesa in modo leggermente diverso rispetto a quello con cui lo intendiamo normalmente. L'invenzio che cos'è? È, insomma, nella disposizione del discorso, nell'organizzazione del discorso retorico, una fase quasi preliminare, eliminare, in cui materiali che non corrisponde a un'invenzione, a qualcosa che viene creato dal nulla, ma all'estrazione quasi di materiali che vanno poi successivamente organizzati quasi da un serbatoio, da un teatro quasi di immagini e topoi preesistente. In questo senso noi abbiamo inteso che Boccaccio è davvero inventore della letteratura italiana, seguendo un po' il ragionamento che Eisner fa nel suo volume e cercando anche di valorizzarlo anche in questa presentazione. Cioè Boccaccio non inventa nulla, ma estrae da una tradizione precedente che è fatta di testi, di autori che lui conosce e ama, una linea. Ecco, porta a piena visibilità. Ecco, questo vorrei dire qualcosa che esisteva certamente, ma sul quale lo sguardo era sfocato, direi quasi. E quest'idea che Boccaccio inventa, che trova, che in qualche modo riesce a disporre in modo tale da renderla, portarla, come dicevo, a piena visibilità, è proprio il concetto di letteratura italiana. E questo è il punto centrale del discorso che porta avanti l'autore del libro. Vale a dire che Boccaccio, organizzando un sistema, un sistema critico, che è figlio poi di una visione poi della letteratura e della tradizione lingua volgare, abbia in qualche modo davvero prodotto per la prima volta un canone, un canone letterario, e lo abbia inventato in questo senso, cioè abbia scelto gli autori che presentavano i vertici di questo canone e lo abbia offerto al futuro. Questo ruolo quindi che assume Boccaccio nella prospettiva di una storia della letteratura italiana è valorizzato al massimo da Martin Eisner, che soprattutto impostando il proprio ragionamento attorno a un codice, che poi cercheremo un po' di approfondire questo aspetto, direi Martin Eisner valorizza, come dicevo, questa idea di Boccaccio inventore e lo fa anche tenendo, secondo me, sullo sfondo del suo ragionamento sempre un altro, diciamo, nucleo ideologico, quello che emerge dalla lettura del sottotitolo che l'autore ha voluto dare al proprio testo, che è Dante Petrarca Cavalcanti e l'autorità del volgare. Perché? Perché appunto naturalmente strettamente connesso all'idea di canone, a quest'idea di storia della letteratura italiana che con Boccaccio comincia a profilarsi, c'è anche il problema di stabilire quali siano le autorità della lingua, quali sono le autorità che si estremono in volgare, ma non solo questo, ma c'è anche una questione di fondo ancora più radicale, cioè che Boccaccio intende dare autorevolezza alla lingua materna, all'italiano, al volgare nascente, che aveva in realtà alle sue spalle una lunga tradizione, ma che non era ancora in nessun modo confrontabile con i traguardi della letteratura latina. Quindi per Eisner, un altro centro fondamentale del saggio, è rappresentato da tutti gli sforzi che Boccaccio compie per far sì che, nella percezione dei suoi contemporanei, anche dei più dotti, in particolare naturalmente nel suo dialogo a distanza e non solo con Petrarca, emerga il valore della letteratura in lingua volgare e questa letteratura in lingua volgare possa confrontarsi da pari a pari con la letteratura latina, quindi con la tradizione latina. E dunque gli autori dei massimi che si esprimono in lingua volgare possono essere messi allo stesso livello dei grandi classici della cultura latina. E in questo senso anche l'azione di Boccaccio è decisiva, perché è proprio un'operazione culturale ad amplissimo raggio quella che mette in opera. e direi che è un'operazione che compie Boccaccio, cioè quella di autorizzare in qualche modo il volgare, attiene naturalmente attraverso i testi, attraverso le opere. Si può pensare ad esempio a quanto venga valorizzato Dante come author, per esempio, nelle esposizioni. Poi magari ci torneremo su questo punto. Ma avviene questo tentativo di Boccaccio di elevare il volgare allo stesso livello del latino anche attraverso operazioni più concrete che sono legate poi sostanzialmente anche alla sua pratica di editore di testi. A questo punto occorre, io credo, proporre, almeno molto brevemente, entrare in un discorso che possiamo porre sotto l'etichetta di analisi della materialità del testo. Ovviamente sono cose note su cui non è necessario richiamare oltre una certa misura l'attenzione, ma è chiaro che nel mondo precedente all'invenzione della stampa a caratteri mobili naturalmente i testi venivano trasmessi per via manoscritta. E quindi è decisivo, è necessario, ogni volta che noi ci confrontiamo con tipologie di testi che hanno questo tipo di trasmissione, questo tipo di tradizione, non considerare solo i testi in astratto, ma considerare i testi nel concreto delle diverse testimonianze manoscritte che ce li trasmettono. Perché ogni manoscritto è un individuo, ogni manoscritto è un oggetto culturale complesso che è articolato al proprio interno, che contiene diverse facce che tutte quante concorrono poi a determinare quell'oggetto che è e che può essere solo come individuo. Per cogliere la natura di questi oggetti culturalmente molto complessi che sono i manoscritti basta soltanto richiamare l'attenzione ad alcuni elementi, forse non è il caso di soffermarsi, ma che almeno vanno tenuti un po' pretenti nel nostro ragionamento, perché materialmente il manoscritto è fatto di un supporto per la scrittura e già questo, che tipo di supporto si sceglie o si ha a disposizione per la composizione di un codice già orienta chi oggi osserva quel codice per comprenderlo nel suo contesto culturale. Ma poi ancora le scritture, ci sono delle scritture che indirizzano chiaramente verso alcuni ambienti socio-culturali o professionali, ben precisi, la mercantesca, la cancelleresca. Vedere, capire che le scelte grafiche non sono delle scelte neutre, ecco, ma sono delle scelte che hanno in sé dei valori culturali, degli aspetti culturali su cui vale la pena di riflettere, è fondamentale. Poi ancora l'apparato di decorazioni, gli apparati che possono essere sia calligrafici, ma addirittura iconografici, sono tutti elementi che vanno tenuti sotto controllo, e insomma insiste molto su questo tema, per comprendere l'oggetto libro e per capire quale sia l'intenzione che ha generato quel particolare tipo di oggetto libro. Cioè c'è sempre un disegno editoriale alla base di un manoscritto, e questo disegno editoriale può avere un maggiore o minore grado di consapevolezza a seconda di chi sta elaborando il manoscritto in questione. Ora, nel caso di Boccaccio, che è un copista, un assemblatore di libri, copista non solo di se stesso, ma anche di opere di altri autori, e questo lo vediamo a breve, è importantissimo, e Heisner con tutto il libro ruota attorno a questo tema, osservare le forme materiali che assumono i testi nei manoscritti, perché già le scelte editoriali di Boccaccio rappresentano la forma concreta di un'idea, di un discorso proprio ideologico, e quindi, sempre nella linea del discorso che stiamo affrontando, è importante osservare come Boccaccio, e Heisner lo fa molto bene nel suo libro, come Boccaccio, attraverso anche delle manipolazioni, in qualche modo testuali, metta la forma libro a servizio di quell'idea che ha, cioè la formazione poi di un canone, in particolare attraverso un codice che è il centro del lavoro di Heisner, che è un codice conservato dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, con segnatura a Chigiano L5176, di cui adesso parliamo. Un'ultima cosa, prima di cedere la parola a Corrado Bologna, è importante, e Heisner lo fa secondo me sviluppando bene uno spunto che Boccaccio offre nella conclusione del Decameron, è importante, dicevo, comprendere che per Boccaccio i gesti mentali della lettura, della selezione di ciò che viene letto, e anche dell'idea di raccogliere quei materiali che sembrano funzionali a un certo progetto editoriale, sono un tutt'uno, cioè sono quasi un unico momento. Cioè Boccaccio quasi, in qualche modo, direi, per inclinazione naturale è un antologista, no? E quindi è interessante vedere come escono dal suo scrittorio alcuni testi, l'antologia che è al centro dell'attenzione di Martinais nel suo saggio, ma anche altri testi su cui posso lasciare poi la parola adesso a Corrado Bologna, che sono gli Zibaldoni, lo Zibaldone, la Micellana e la Vorenziani, che già rappresentano due esempi proprio di questa tendenza di Boccaccio, appunto a raccogliere materiali, a disporli lungo l'arco di un ragionamento, di una forma mentale che poi diventa anche forma libero. E quindi leggere e leggere, e quindi scegliere, e poi collezionare, ovvero raccogliere, sono dei gesti che in Boccaccio formano quasi un tutt'uno, si possono veramente, rappresentano un'unitarietà quasi. Questo lascio la parola a Corrado per continuare un po' il nostro discorso, e semmai per approfondire o correggere un po' il tiro delle cose che ho detto fino adesso. E le cose molto interessanti che Lorenzo Fabiani ha detto finora, metterei in luce in particolare queste categorie, autore, editore. Noi siamo abituati a pensare, fin dalle scuole, a Boccaccio essenzialmente come un autore. Boccaccio è l'autore del Decameron, è l'autore del Teseida, del Filostrato, è un autore improprio, come dire, e cioè colui che, come diceva Bonaventura da Bagnoreggio, il grande francescano generale dell'ordine a cui si ispira Dante, insomma ci troviamo intorno alla metà del 200, giusto un secolo prima di Boccaccio, è colui che scrive cose inventate da lui stesso. Però prima che è autor c'è anche la figura del compilator e dello scriptor, cioè di colui che scrive, lo scriva cose altrui, e colui che mette insieme, trascrivendole cose altrui. E poi c'è il commentator. Queste categorie Boccaccio le assomma su di sé tutte. Boccaccio è contemporaneamente uno scriva, uno scrivano che copia, vedremo che copierà tre volte la commedia e altre volte, diverse volte, per esempio, le proprie opere. Non fa che scrivere, non fa che impaginare. Abbiamo sotto gli occhi l'esempio dell'officina di Boccaccio, un'officina materiale. La vediamo proprio in quella materialità a cui Lorenzo Fabiani faceva poco fa riferimento, e cioè vedete per esempio quasi dei calligrammi intorno ai bordi del foglio. È un disegnatore Boccaccio, un architetto di libri, come ha detto Marco Cursi benissimo. L'officina del Boccaccio, secondo un paleografo come Zamponi, è proprio un luogo, un laboratorio, un'officina, come quella del Fabbro, come una specie di luogo in cui si fonde il bronzo. Vengono scelti e riuniti insieme autori antichi e moderni. Qui abbiamo un esempio degli autori antichi, lo Zibaldone, che un tempo si credeva separato in due perché lo è materialmente, ma oggi si capisce che in realtà è stato un unico libro, nel quale Boccaccio ha copiato, selezionato, delle cose straordinarie in latino. Giovanni del Virgilio, Dante, lo stesso Boccaccio e Petrarca. Tra il 42 e il 44, quando ritorna da Napoli, dove è andato nel 1328, mentre è re Roberto D'Angio, e lì Boccaccio ha conosciuto Cino da Pistoia, ha incontrato, io penso, Petrarca, ma comunque Petrarca è arrivato proprio nel momento in cui lui stava partendo. Insomma, l'esperienza napoletana è fondamentale in Boccaccio. Ha colto tutta la cultura provenzale, francese, e non solo, italiana, novellistica, che era lì. È la grande cultura classica che si praticava a Napoli. Con lo Zibaldone latino abbiamo un tipico esempio di un'antologia creata a proprio uso, in cui però al centro c'è già un canone. Eccolo, Giovanni del Virgilio, Dante, Petrarca, e in mezzo si infiltra questa specie di Dioneus, questo Dioneo che è un po' saltimbanco, un po' così, un elfo che spunta dappertutto, che è Boccaccio stesso. In questa antologia latina, che è un manufatto unitario, fondamentalmente composto lungo vent'anni, soprattutto Boccaccio raccoglie delle ecloghe, delle ecloghe antiche e moderne. E questo genere dell'ecloga è fondamentale, perché nella, come diceva Petroletti, erudizione un po' tumultuosa e disordinata del Boccaccio, l'ecloga, lui la vede bene come un genere importantissimo, anche perché praticato proprio dallo stesso Dante Alighieri. Quindi, mettendo insieme una specie di prontuario di retorica e poesia, accosta Dante Alighieri, Giovanni del Virgilio, che lo ha sfidato, è un professore bolognese, è uno che vuole fare carriera, insomma, a Bologna, e infatti entrerà nell'università, non appena riceverà da Dante la lettera in risposta a una sua proposta, quasi una lettera di raccomandazione. Dante sa bene quello che sta facendo, no? Accetta la sfida di questo professorino di provincia. Dante si trova già in Romagna. E una delle ultime opere, se non proprio l'ultima opera di Dante, non è la commedia. Io resisto ancora un poco psicologicamente ad ammettere questo, ma è un'ecloga latina. Sono quelle quattro ecloghe che si scambiano. Giovanni, detto del Virgilio, perché è un grande commentatore di Virgilio, che riprende la bucolica, l'ecloga antica e la attualizza. Ecco, le ragioni per cui sia così importante questa ecloga lo mostra la organizzazione interna dello Zibaldone-Laurenziano. La corrispondenza tra Giovanni de Virgilio e Dante Alighieri, come vedete, sta proprio messa insieme. Prima il carme di Giovanni, la prima ecloga di Dante, la risposta di Giovanni, la seconda ecloga di Dante. E come vedete stanno insieme fra il foglio 67 e il foglio 72. Cioè, quello che diceva Lorenzo Fabiani un attimo fa è importantissimo. Lo vediamo anche nell'immagine a destra, no? La divisione dei fascicoli, l'organizzazione del libro. Noi oggi siamo abituati a prendere un libro come questo, che compare in tante copie. Ebbene, in antico ogni libro è un individuo. Lo ha detto bene Lorenzo. Cioè, è quella cosa lì, fatta come quell'autore lì, con la sua stessa mano, che è il pantografo della mente, ha realizzato. Non ci sono due manoscritti uguali, mai. Anche nel minimo dettaglio possono variare. Ma si noti come immediatamente dopo lo scambio di Giovanni del Virgilio e di Dante, che sul modello dell'antico Virgilio fanno le ecloghe nuove in latino, Boccaccio introduca subito Petrarca, le epistole metriche, e un ricordo della sua incoronazione poetica. In sostanza, un primo canone del Dante latino e del Petrarca latino messi insieme c'è già nello Zibaldone latino. La storia della lettera di frate Ilaro, che apre questo indice al foglio 67 recto, è una delizia. Ve la accenno molto rapidamente. Boccaccio è l'unico a riportarci in questo Zibaldone una lettera che a lungo è stata ritenuta un'invenzione di Boccaccio stesso. Non fosse altro, diceva Villanovic, perché si chiama Ilaro il frate, fa ridere se la ride di noi, se la ride proprio di noi filologi. Racconta il frate Ilaro di aver incontrato un giorno in montagna Dante che gli ha consegnato in latino un libro dicendo guarda questa cosa qui io l'ho intitolata Commedia e l'ho scritta in latino. Si apre con Inventati da qualcuno, senza dubbio, se ne era già accorto più Raina, se ne erano accorti gli antichi filologi. Chi sarà costui? Veramente un frate Ilaro? O forse Giovanni Boccaccio? sta di fatto che l'unica attestazione di una commedia in latino, cioè perfettamente solidale a quell'idea di un Dante come importante autore latino che Boccaccio si stava sviluppando, la presenta lo Zibaldone laurenziano. E poi, e forse qui io credo potrebbe brevemente riprendere, non brevemente, largamente riprendere il discorso Lorenzo Fabiani, la commedia vera, la commedia volgare. Boccaccio è un editor, è uno insomma che fa l'editore di Dante. Si mette lì e di suo pugno, ma vi potete immaginare la commedia che ha più di 13.000 versi, se l'è copiata tre volte. Perché? Sonia Tempestini, sotto la mia guida a Lugano, ha fatto una bellissima tesi di dottorato, mettendo insieme per la prima volta quella che si dice una collazione, cioè un confronto fra i testi delle tre commedie. Non l'aveva fatto nessuno, ha dedotto delle cose interessantissime e rinvio, lo troverete online, ai suoi saggi in proposito. Però, come vedete, tra la fine degli anni 40 e i pieni anni 60, cioè per un quindicennio buono, Boccaccio non fa che scrivere e copiare Dante. Dante da solo, ma anche Dante in compagnia. Per esempio, nel codice che oggi è a Toledo, mette insieme, prima della commedia, il suo proprio trattatello in lode di Dante, la vita nuova, e poi la commedia, con degli argomenti in terza rima che scrive lui. Quindi è lui l'editore di Dante, è lui che fa la prefazione, come Lorenzo ed io abbiamo fatto al libro di Martin Eisner. E' insomma l'editor che rende pubblico attraverso un manufatto che non c'era prima, un autore che oramai è diventato canonicamente author. Dante ha avuto un immediato successo, ma se non ci fosse stato Giovanni Boccaccio il suo successo sarebbe stato come dire un po' più provinciale, anche meno veloce, meno rapido e soprattutto non sarebbe stato collegato così immediatamente con la parte lirica di Dante, le 15 canzoni di Dante. E lo stesso Chigiano, lo stesso Chigiano L6213, era anticamente, ci torniamo sopra, ci torna Lorenzo, collegato con quell'L176 che invece contiene un'altra parte dell'antologia. Insomma, Boccaccio ha in mente un tutto Dante, tutto Petrarca e un po' di Boccaccio in mezzo e in più ci aggiunge Guido Cavalcanti. Mette insieme per la prima volta a piena pagina la commedia, così come lui stesso lo ha segnalato per la prima volta Marco Cursi nei saggi contenuti prima in questo bellissimo volume che è un catalogo della mostra Boccaccio, autore e copista, la mostra del 2013, anno centenario in cui sono uscite delle novità strepitose e poi lui stesso con questo libro dedicato al Decameron, scritture, scriventi e lettori che è la storia del testo a partire da Boccaccio stesso e dai tuoi autografi fino ai copisti successivi. Però stiamo un momento ancora sulla messa in pagina. Ecco, noi oggi non abbiamo più questa idea della messa in pagina. Prendiamo un libro, Martin Hazen, lo apriamo e nessuno di noi si accorge che questo libro è messo in pagina perché tutti i libri sono impaginati, sono impaginati secondo regole editoriali che sono previste dall'editor appunto, cioè in questo caso l'editore Salerno di Roma o Mondadori o Inaudi o Feltrinelli. Ecco, in questo caso invece c'è Boccaccio invece di Inaudi c'è Boccaccio, cioè uno che decide come presentare il libro, sotto quale forma materiale, mettendo insieme come nella pagina i testi e questo ha una valenza importantissima. Per esempio, decidere di mettere la commedia proprio così come la vedete al centro della pagina, questi sono i tre codici che lui si copia a mano, identici, vedete, non c'è se non qualche minima differenza nel N lunga, nel codice di Toledo e in quello ricardiano che finisce poi nel codice chigiano che è a destra. Però vedete che è una pagina di grande respiro, di grande campitura, quasi una pagina dipinta, perché sui bordi è previsto che poi si mettano i commenti, cioè che questo diventi un libro di studio come i classici antichi. Questo non era mai accaduto prima con Dante, ma solo appunto con i classici o con il proprio Teseida. Questo è un codice molto bello, molto, molto appassionante, perché è l'autografo del Teseida. Vediamo questa grande Q iniziale che contiene in sé tutta l'ottava, perché Boccaccio è l'inventore dell'ottava, quella che poi con Boiardo e Ariosto avrà una grande fortuna, e subito prima c'è un sonetto e subito accanto al testo c'è un commento, una postilla. Quindi abbiamo in questa pagina due o tre cose fondamentali. Boccaccio autore, Boccaccio scriptor, cioè copista di se stesso, Boccaccio editor, cioè che si impagina, Boccaccio commentator, che si commenta con una postilla che vediamo sulla destra in altra grafia, non la gotica elegante, ma una grafia di pratica di commento, di pratica di studio. E diciamo questa fotografia di questo codice oggi in Laurenziana è bellissima, importantissima, è tenera, perché è il modo in cui Boccaccio si autocanonizza. Il suo Teseida, che è il primo, forse, poema in ottava rima, volgare, è trattato da un punto di vista grafico e editoriale come la commedia di qualche anno dopo. Ecco come il Boccaccio napoletano, che è questo, giovane, diciamo insomma intorno agli anni 30 del 300, e il Boccaccio che torna a Firenze e dà il meglio di sé e dopo il 48 e la peste nera scrive anche il Decameron, hanno una stessa e unica idea di libro, messa in libro del testo. Ecco io lascio la parola a Lorenzo proprio su questo, mettere in libro un testo. Dovete pensare, voi che ascoltate e che non siete abituati magari alla mentalità medievale dell'organizzazione di un libro, dovete pensare appunto che facendo tutto a mano non c'è mai una griglia precostituita dalla stampa che riproduce in centinaia, migliaia, milioni di esemplari un certo testo. Qui il testo coincide con il libro che porta a quel testo, cioè ci presenta la sua forma. Immaginate di levare questa Q maiuscola così elegante, quante può fare il tempo, eccetera, eccetera, e immaginate di impaginarlo diversamente. Capirete quanto cambi la ricezione dell'immagine del testo. Allora il testo diventa anche l'immagine visiva, figurativa di se stesso e ciò avviene, Eisner lo segue bene, per la commedia, per Petrarca e anche per l'opera dello stesso Boccaccio poco prima. Lorenzo. Allora, mi riprendo un po' il discorso da dove lo ha lasciato Corrado e lo faccio se posso citando qualche riga che viene citata da Eisner nel suo libro e che Eisner riprende proprio da Petrucci che è un grandissimo paleografo che a lungo si è occupato di tutte le questioni che abbiamo un poco accennato e Petrucci riferendosi proprio alle pratiche grafiche ed editoriali di Boccaccio scrive appunto che sembra che Boccaccio tenti consapevolmente di innalzare i manoscritti che contengono i testi in volgare a livello di dignità che ha il modello dominante della produzione liberaria del tempo cioè il libro da banco in textura gotica con tutti i suoi attributi fisici e simbolici direi che possiamo chiudere un po' quanto abbiamo detto e portarci avanti con il discorso con queste parole cioè gli attributi fisici e simbolici del libro è fondamentale Corrado Bologna lo ha detto molto bene un libro nella sua impalcatura grafica è un oggetto che è simbolico e dunque per esempio in colonna rappresentare la commedia su un'unica colonna in quella grafia che abbiamo visto con i monoscritti che abbiamo poco fa mostrato ha un alto valore simbolico cioè significa elevare Dante al modello degli scrittori classici e così facendo aprire un nuovo canone un canone che dialoga con quello della classicità ma che è un canone che parla la lingua la lingua volgare un'altra cosa che è emersa dalle parole di Corrado Bologna ha a che fare anche con la laboriosità delle operazioni che mette in pratica Boccaccio cioè Boccaccio ritorna continuamente sui testi l'abbiamo visto copia la commedia tre volte e questo significa un enorme investimento di tempo o di risorse insomma una devozione assoluta verso Dante come è noto ma che si vede quindi anche attraverso queste queste tracce che sono materiali e questo continuo tornare sui libri sui testi sulla loro organizzazione è ben messo in evidenza da Martin Eisner proprio con osservazione puntuale della struttura materiale che contraddistingue oggi il manoscritto che è al centro del suo studio che è appunto il manoscritto chigiano L5176 che come diceva prima Corrado Bologna non ha sempre avuto la fisionomia con la quale ci si presenta oggi era un manoscritto che originariamente rispondeva a quel modello di tutto Dante che abbiamo già visto essere messo in pratica da Boccaccio in un altro in altri momenti ma cosa è successo ecco che cosa si è determinato perché allora il manoscritto non appare più oggi ai nostri occhi così come inizialmente era stato pensato da Boccaccio perché Boccaccio anche se poi insomma il tema potrebbe essere un po' approfondito perché le vicissitudini di questo di questo monoscritto sono state variamente interpretate dai filologi dai paleografi dai da chi si occupa di codicologia è probabile però e l'idea di Eisner poi in fondo è quella che sia stato Boccaccio stesso a determinare un riassetto complessivo di quel volume che un tempo era tutto Dante ma che poi comincia ad accogliere dei materiali esterni comincia ad accogliere e lo mostra molto bene Eisner che segue tutte le fasi redazionali di questo e le ricostruisce anche attraverso degli schemi che aiutano proprio immediatamente a visualizzare quello che accade comincia con l'aggiunta di Petrarca cioè comincia con l'aggiunta di alcune poesie di Petrarca che vengono annesse in coda al volume che ancora presentava la commedia di Dante incassonata tra la vita nuova e il carme Italia Iam Certus Sonos di Boccaccio e poi che cosa accade quindi aprendosi a un altro autore quel modello di tutto Dante si dissolve e forse questa è l'idea insomma che anima il libro di Eisner nella mente di Boccaccio emerge un progetto editoriale più ampio cioè viene separata la sezione occupata dalla commedia dal manoscritto viene sostituita con che cosa? Con la canzone di Guido Cavalcanti Donna mi prega che è anche circondata lo vedremo tra poco da un commento e commentata e dunque che cosa accade? Accade qualcosa di sì possiamo forse rimanere sulla se vuoi Corrado senza anticipare vediamo forse visto che ne stai parlando Donna mi prega diciamo il discorso vuole arrivare un po' qui vuole arrivare anche un po' come diceva Corrado in precedenza all'importanza che ha nell'assetto testuale anche un dato ideologico di fondo cioè il rapporto tra il testo e il commento già Corrado Bologna lo metteva in luce bene per quanto riguardava l'opera autografa di Boccaccio che si fa commentatore di se stesso ma nel manoscritto chigiano che Eisner analizza viene messo in luce molto bene dall'autore del saggio come il dialogo fra i testi e i commenti costituisca e che Boccaccio instaura e che vuole rendere visibile il più possibile proprio organizzando la pagina per fare in modo che risalti questo dialogo tra i testi e il commento perché fa questo insomma il discorso sarebbe andato poi comunque naturalmente lì perché Boccaccio ricordiamo aveva in mente di proporre appunto un volgare che avesse un'autorità paragonabile a quella che avevano i classici latini e allora è proprio sul ruolo della glossa del commento che si gioca che Boccaccio insomma insiste perché i testi diciamo volgari finalmente hanno a partire da Dante sostanzialmente per Boccaccio comunque Dante rappresenta l'inizio di questa di questa nuova tradizione così così stratificata dal punto di vista semantico perché appunto i testi in lingua volgare devono essere commentati perché hanno una molteplicità di sensi hanno raggiunto una complessità tale che hanno bisogno del commento e Lorenzo lasciami intervenire un momento solo su questo punto chi sta guardando questa immagine vede Donna me prega perché io voglio dire al centro della pagina che Boccaccio costruisce e sui bordi c'è Dino del Garbo un commentatore di cui questo è l'unico esemplare che noi abbiamo cioè Boccaccio è anche un trovatore di roba buona è un è un è un cacciatore di di funghi preziosi è un cacciatore di tartufi lui trova il commento in latino di Dino del Garbo e lo copia intorno a Cavalcanti è l'unico esempio che noi abbiamo di questo testo che si sarebbe perduto altrimenti ma qualcuno di voi che sta seguendo avrà in mente qual è il testo canonico in assoluto che ispira tutta la tradizione medievale e ancora Boccaccio qui è quello della Bibbia evidentemente è il testo biblico il testo canonico per eccellenza che veniva costruito con pochi versi versetti al centro della pagina e quelle che venivano chiamate le catene lungo i bordi che incatenavano il testo e che poi come catene venivano costruite nella copia l'uno dell'altro Lorenzo ritorna pur tu dove eravamo poco fa allora sì eravamo poi se vuoi scendere ancora nella depositiva successiva e forse ancora oltre anche dopo questa ecco possiamo fermarci alla precedente se non ti spiace Corrado quindi qual è un po' il discorso e abbiamo visto bene e lo vedremo anche attraverso altri esempi che tra poco mostreremo dal manoscritto perché credo che il dialogo con le immagini sia quanto mai necessario in un tipo di presentazione di un saggio che ha al centro un manoscritto c'è come abbiamo visto prima uno snodo uno snodo importante Boccaccio lo dice molto spesso insiste su questa su queste immagini Eisner nel suo libro si fa mediatore diciamo Boccaccio vuole costruire una nuova tradizione ho perso il vuole costruire una nuova tradizione della della letteratura in lingua volgare e vuole farlo naturalmente saldando quelli che sono per lui i massimi autori gli autori che sono in dialogo poi sostanzialmente fra loro un dialogo che viene sollecitato da Boccaccio stesso e questi due autori sono naturalmente Dante Dante e Petrarca e allora che cosa che cosa accade che con il diciamo con un carme attraverso il quale Boccaccio dedica a Petrarca il libro e soprattutto come dire anche l'idea sostanzialmente vuole rendere Petrarca partecipe dell'idea che questo libro questa nuova antologia questo libro che è diventato un'antologia che tende che vuole canonizzare i grandi autori della letteratura ecco vuole offrirla intendevo dire a Petrarca attraverso questo carme latino che mette in evidenza alcune cose su cui Eisner ragiona molto e bene che sono sostanzialmente queste le mettiamo un po' in evidenza cioè Dante è quell'autore prima del quale nessuno ha fatto o nessuno è riuscito a raggiungere vette simili parlando in lingua volgare quindi Dante è qualcuno che inaugura una tradizione ma appunto siamo attenti a quell'ante cioè vuol dire che naturalmente verso verso ante esatto quando Boccaccio dice che nessuno prima di Dante ha mai fatto qualcosa del genere naturalmente offre da un lato anche il segno della continuità cioè sarà poi Petrarca che dovrà raccogliere e che raccoglierà questa eredità e poi c'è un altro punto che secondo me è decisivo e su cui Eisner diciamo spende molte pagine e che ha a che fare proprio con il rapporto tra latino e volgare perché appunto Boccaccio è un po' il punto di equilibrio in questa dinamica latino-volgare fra Dante e Petrarca perché appunto vediamo che gli ultimi versi diciamo sono un invito a Petrarca ad accogliere il testo di Dante un testo impensato impensabile prima di Dante stesso e che ha altissimo valore e che deve averlo anche agli occhi di Petrarca nonostante ecco nonostante sia in lingua volgare e quindi questo è centrale importantissimo naturalmente per lo sviluppo del ragionamento di Eisner perché è qui che si gioca un po' quel ruolo di mediazione a cui facevo cenni anche prima che è svolto da Boccaccio non solo mediatore tra Dante e Petrarca ma anche mediatore tra l'autorità della lingua latina e la nuova autorità che va costituendosi della lingua materna e che Dante è il primo a usare con una profondità come diceva agli occhi di Boccaccio almeno una profondità tale da costruirsi sul modello di quella scrittura polisensa che è la scrittura la Bibbia e in questo senso se possiamo anche scendere forse con la diapositiva Lorenzo io perdonami vorrei citare poche righe di Eisner proprio su questa pagina vedete bene come questa pagina sia voluta nella sua brevitas nella sua compattezza architettonica è una facciata che si inserisce fra Dante e Petrarca materialmente e immaginatevelo Boccaccio che sta componendo la sua antologia monumento è un monumento alla poesia moderna in cui lui stesso si interpone come mediatore con un testo in latino fra Dante volgare Petrarca volgare lui Boccaccio con una poesia in latino in cui dice a Petrarca che è già stato incoronato poeta a Roma e lui lo sa e lo ha esaltato eccetera dice continua tu accogli quest'opera di Dante che è gradita ai dotti ma anche dal volgo e continua la tu non ti limitare all'Africa ma esalta con il canzoniere che infatti copia immediatamente dopo Boccaccio esalta con il canzoniere questo nuovo modello volgare ecco questa pagina così nella sua ovvietà un po' vanitosa diciamo è un po' vanitoso Boccaccio si vuol mettere lì in mezzo ai piedi del monumento immaginatevelo in bronzo come il monumento della porta di Rodin la porta dell'inferno di Rodin di qua Dante Cavalcanti di là Petrarca e in mezzo a unire i due Boccaccio che prende come nell'immagine di come in questa immagine di Vasari che sta proprio sulla copertina del testo inglese di quello italiano Boccaccio che unisce per così dire lo vedete Dante e Petrarca Petrarca su invito di Boccaccio che gli sussurra all'orecchio indica col dito Dante che è sdegnoso guarda in grado Eisner scrive queste parole bellissime quando Boccaccio ha aggiunto i testi di Petrarca alla propria edizione delle opere di Dante non ha semplicemente raccolto in un unico manoscritto il lavoro di due poeti due poeti qualunque invece ha legato inestricabilmente due autores iniziando a trascrivere i componimenti del secondo sul verso del foglio sul cui recto terminavano quelli del primo ecco io credo che questo si possa anche vedere credo che eccolo qui proprio in questa pagina così ben organizzata da Lorenzo che è l'autore del powerpoint io ci ho messo un po' di peperoncino ma il powerpoint è tutto suo bene qui vediamo vedete a sinistra finiscono le canzoni liriche di Dante e nella facciata successiva come se girassimo proprio qua il retto e quel verso incomincia il rerun vulgari un fragmenta che vi segnalo sono una forma editoriale unica cioè noi la chiamiamo la forma chigi perché è contenuta nel chigi 176 Petrarca ha dato a Boccaccio da copiare un suo autografo e non l'abbiamo più quel libro abbiamo invece la copia che ne ha tratto Boccaccio poiché sappiamo dall'autografo di Petrarca che verrà un po' di anni dopo come Petrarca impagina i suoi testi e come li organizza graficamente con una ossessiva capacità ingegneristico architettonica sappiamo che la pagina che abbiamo davanti è una copia fedele di Giovanni Boccaccio dell'autografo di Petrarca che noi non abbiamo più perché quello che abbiamo è di anni successivi ed è un'altra edizione ecco continuo con Eisner copiando i testi di Petrarca e di Dante su un solo foglio di pergamena davanti e dietro Boccaccio include l'autore del canzoniere nel proprio discorso sull'autorevolezza del volgare il fragmentorum liber cioè il canzoniere di Petrarca dimostra infatti che anche il poeta laureato che Boccaccio ha chiamato Italia Iam Certus Onos oramai sei l'onore d'Italia sicuro tu Petrarca laureato aveva avuto cura di raccogliere i propri componimenti in volgare ecco allora che Boccaccio per primo raccoglie almeno per quanto ne sappiamo noi raccoglie le poesie liriche di Dante si trovano a fatica delle testimonianze più antiche di Boccaccio il grandissimo filologo Michele Barbi dedicò a questo degli studi molto belli gli studi sul canzoniere di Dante che chi è interessato troverà li ho fatti ripubblicare in anastatica dalla società dantesca italiana con una mia prefazione però insomma l'idea di fondo è Dante non ha mai fatto un canzoniere non ha mai raccolto le proprie poesie liriche lo fa Boccaccio per lui o comunque Boccaccio prende una tradizione e la giusta però invece da Petrarca prende la composizione del testo voluta dallo stesso autore suo intimo amico oramai quindi non è chi non veda come Heisner ha messo il dito al centro di una questione esplosiva di potenza epocale epistemologica grandissima non è soltanto un libro in cui Boccaccio per proprio uso ti raccoglie le poesie ma è un libro che fa canone mette insieme un'antologia scolastica diventa un libro di scuola con un solo scolaro che si chiama Giovanni Boccaccio Lorenzo bene allora questa immagine quello che possiamo forse fare ancora è tornare un po' qui indietro o se si vuole ancora di una ancora di un'altra ecco forse ecco no no alla successiva scusa Corrado che ti chiedo ecco a proposito di questo Boccaccio che si fa a scolaro ma non rinuncia neanche però a svolgere il ruolo di chi fa l'antologia una cosa che io credo sia anche un valore del libro di Eisner è fare attenzione proprio a tutte le pratiche editoriali che mette in campo Boccaccio proprio per raggiungere quei fini che lungamente abbiamo abbiamo discusso ce ne sono alcune di queste operazioni che sono particolarmente quasi vorrei dire violente usando un po' la parola con un'accezione un po' chiaramente metaforica però che cosa accade ad esempio ai testi di Dante che passano per le mani di Boccaccio come diceva prima Corrado Bologna ad esempio ne escono trasformati cioè che cosa accade accade che Boccaccio si sente anche come dire assume delle decisioni di appunto da editore che portano alla modificazione alla trasformazione dei testi per come lui li aveva ricevuti cioè il discorso è che Boccaccio riceve i testi in un certo modo li trasforma e li restituisce al futuro in un altro tant'è vero che spesso si sente parlare della funzione Boccaccio in campo diciamo letterario cioè Boccaccio trasforma la tradizione che passa attraverso le sue mani e ce la riconsegna in modo diverso una cosa che fa ad esempio e che è notevole insomma se ci si pensa è intervenire sul testo della vita nuova e sottrarre diciamo alcune parti del testo alla loro continuità quindi interviene sulle belle opera dei tagli e toglie scorpora sostanzialmente quei punti in cui Dante riflette sulle proprie poesie quelle che lui chiama le divisioni e queste divisioni che a Boccaccio sembrano non inserirsi perfettamente nel flusso narrativo che contraddistingue il prosimetro di Dante le prende e le porta fuori testo cioè le trasforma in glosse come quelle glosse che abbiamo visto circondare il testo di Donna Meprega che però erano il Dino del Garbo in questo caso Boccaccio coglie nel testo di Dante un testo e all'interno anche un commento al testo ma questo commento lui sceglie di estrarlo dal testo dalla continuità del testo e di porlo al margine della pagina e nel fare questo lo vedremo magari nella prossima diapositiva restando un attimo però su questa restando sulla precedente scusate da una giustificazione del suo agire cioè fa quella che Eisner dice forse è la prima nota critica la prima nota editoriale della storia della letteratura italiana perché Boccaccio giustifica il suo modo di procedere molti si meraviglieranno dice Boccaccio di vedere in questo modo manipolata l'opera di Dante ma io credo che appunto qui ci sono si possono leggere le parole di di Boccaccio stesso che ci sono dei punti dell'opera di Dante detto in estrema sintesi che è meglio scorporare cioè presentare come commento perché di fatto sono commento e allora se possiamo andare alla diapositiva successiva vediamo che a un certo punto ci sono dei brani della vita nuova che vengono tolti dal continuum testuale e dislocati al margine della pagina come se fossero delle glosse ma che sono glosse d'autore cioè Boccaccio che ha deciso che quelle sarebbero diventate glosse e questa idea di glossare il testo il testo volgare naturalmente si connette con quanto abbiamo detto prima cioè la glossa dà autorità al testo perché un testo che ha bisogno di una glossa è naturalmente un testo polisenso un testo che si piace ai dotti e agli illetterati ma del quale gli illetterati colgono soltanto alcune sfumature restando però al di qua per quanto riguarda invece la vera il vero significato allegorico appunto del testo un'altra cosa che potremmo notare è che Eisner mette bene in luce e secondo me vale la pena un po' di valorizzare anche in quello scambio come si diceva di dare e avere tra Dante e Petrarca per mezzo di Boccaccio ma anche tra Petrarca e Boccaccio per mezzo di Dante che cosa accade qui? Che la vita nuova che naturalmente si costituisce di due parti a un certo punto Beatrice muore quindi si cambia il registro ecco Boccaccio mette bene in evidenza qui per tornare un po' alla mise en page mette bene in evidenza quel momento di frattura che è determinato dalla morte di Beatrice attraverso quell'iniziale decorata che è di modulo maggiore rispetto alle altre e che idealmente separa quella parte in vita dalla parte in morte di Beatrice nella vita nuova e che questa è anche un'invenzione di Boccaccio cioè Boccaccio che attraverso degli espedienti della messa in pagina del testo trasforma ecco ciò che gli è arrivato da Dante e ce lo offre in modo leggermente leggermente diverso ma insomma intervengo un momento a glossare Lorenzo Fabiani noi moderni non abbiamo l'abitudine a a immaginarci l'importanza di questi dati grafici perché noi compriamo un libro in libreria e questo libro è stato completamente messo in piedi da un editore ma vedete in un libro sfogliandolo normalmente non c'è alcun elemento che distingua le parti come Lorenzo ci sta mostrando mentre nel libro che abbiamo sott'occhio in questo istante cioè la vita nuova con la glossa marginale con le rubriche spostate messe in luce con una certa violenza da Boccaccio perché Boccaccio sta invadendo il testo di Dante che oramai è morto da 30 anni e sta diventando la stella polare di tutta la letteratura e Boccaccio lo adora se ne vuole però contemporaneamente appropriare Harold Bloom un grande studioso americano ha parlato di Unsighted of Influence questi due grandi amici Petrarca e Boccaccio sono assediati dalla imponenza di Dante lo adorano e insieme c'è quella profonda invidia ammirativa invidia buona almeno da parte di Boccaccio su Petrarca avere qualche dubbio ma insomma ammirativa perché si accorgono di avere davanti il nuovo Virgilio anzi qualcuno che ha superato Virgilio ha superato Omero perché ha lavorato in volgare ecco dicevo quelle maiuscole sono un'invenzione di Boccaccio basata sulla tradizione della scuola Boccaccio è un uomo di scuola dicevamo fa lo scolaro è uno che va all'università ecco e ha studiato anche con Cino da Pistoia e quindi lui sa bene che per cogliere l'attenzione del lettore un po' come noi stiamo facendo con l'ascoltatore attiriamo l'attenzione sua materialmente su un punto della pagina vedete quella pagina vedete quella S quella A eccetera eccetera in quel momento si stanno snodando si stanno articolando dei luoghi del testo la stessa cosa Boccaccio la fa sul Decameron autografo che oggi è a Berlino nel codice emiltoniano quindi Boccaccio si inventa un sistema per come dire graduare l'attenzione del lettore e il primo lettore è lui stesso autore e lettore di se stesso viene così graduata modulata manipolata accompagnata l'attenzione del lettore lungo una scala gradino dopo gradino e questi gradini sono tutti segnalati da una differenza di gradazione di aumento di riduzione di corpo delle lettere incipitarie quelle che aprono il paragrafo o in questo caso appunto nel caso della vita nove singoli paragrafi oppure nelle novelle del Decameron le singoli parte delle novelle Lorenzo possiamo avviarci alla conclusione forse sicuramente sì sì io direi ti lascio qui la parola soltanto chiedendoti magari di sviluppare quest'idea cioè quindi Boccaccio crea un canone non che nessuno insomma è un canone della letteratura volgare lo propone ce lo offre è in larga parte il canone che imposta Boccaccio è accolto però va detto naturalmente anche Eisner lo fa nel suo volume che non è certamente Boccaccio è il primo a sentire questa esigenza cioè di porre lungo una linea diciamo storico letteraria tutti i prodotti che sono immersi in lingua volgare questa è un'esigenza che sente già Dante il Dante del De Vulcare Eloquenzia ad esempio che già crea il proprio canone ma lo farà anche nella commedia evidentemente questo ragionamento sui predecessori c'è sempre e ci sarà e adesso ti lascio la parola su questo su cui poi possiamo chiudere anche naturalmente in Petrarca questo pensiero questo pensiero di come raccogliere i testi della tradizione come disporli lungo una linea però quello che forse il punto sul quale chiuderei per quanto mi riguarda il mio intervento ha proprio a che fare con la posizione di Boccaccio in quel dipinto di Vasari che Eisner ha voluto come copertina del suo libro Boccaccio è sullo sfondo cioè è in una posizione defilata rispetto agli altri due autori questo su questo su questo dato Eisner riflette abbastanza sostanzialmente giunge una conclusione cioè solo Boccaccio aveva la capacità di trarsi indietro rispetto ai materiali che che trattava cioè Boccaccio non vuole essere parte di questa competizione anche per Dante Dante si pone sempre come dire come come vertice si propone come vertice della tradizione che lo precede e lo stesso vediamo adesso farà Boccaccio invece Petrarca ha un altro atteggiamento veramente da mediatore da valorizzatore Boccaccio vuol dire Boccaccio una grande generosità e questo aspetto sta parlando di Boccaccio Lorenzo sta parlando di Boccaccio non so se forse correggiti Lorenzo stai parlando di Boccaccio parlavo certamente di Boccaccio che si pone dietro fa un passo indietro rispetto agli altri due e per questo è in grado di costruire in modo più sereno più disteso questa mediazione che vuole proporre fra Dante e Petrarca e Petrarca invece ha un'altra idea un'altra idea di canone come si vede per esempio in questa canzone che è molto celebre la canzone 70 su cui forse possiamo chiudere Corrado sì la canzone 70 è composta secondo gli antichi filologi soprattutto tedeschi intorno alla metà del 300 quindi si colloca un po' prima delle scelte che Boccaccio fa della canonizzazione di cui abbiamo parlato finora e dell'ordine delle poesie nel libro nella messa in ordine della messa in libro antologica però lo stesso Petrarca doveva evidentemente dialogare con Boccaccio perché perché la canzone numero 70 l'assome che io non so in qual parte pieghi che vediamo qui a sinistra nell'autografo Petranchesco credo che sia questo ogni decimo verso che chiude quindi la stanza è composto da un verso di un poeta importante il primo è Arnaut Daniel o almeno quello che Petrarca ritiene che sia Arnaut Daniel il secondo al verso 20 è Donna mi prega perché io voglio dire lo vedete proprio nella pagina sinistra quasi al centro un po' prima della iniziale in rosso poi così nel mio parlare voglio essere aspro di Dante un po' prima della iniziale in blu al verso numero 30 e si noti bene che questa canzone di Dante è quella che Boccaccio sceglie come prima canzone delle sue 15 quando poco fa abbiamo visto che prima del canzoniere di Petrarca Boccaccio ci mette 15 canzoni di Dante la prima di Dante è così nel mio parlare voglio essere aspro ora c'è una grande questione complicata che non affrontiamo qui se sia Boccaccio se ci fosse già una intenzione dantesca segnalata nel convivio insomma che circolasse una tradizione in Firenze ma la prima testimonianza sicura è quella del Boccaccio e la conferma lo stesso Petrarca che costruisce un suo micro canone di cinque poeti i provenzali cavalcanti Dante come poeti petrosi come poeti filosofici come poeti difficili e poi i due dolci i due soavi cino da Pistoia la dolce vista e il bel guardo soave il titolo canta chiaro e infine l'ultimo verso lo vedete l'ultima riga nel dolce tempo della prima etade che è la prima canzone di Petrarca stesso il numero 23 del canzoniere dunque è come se fosse una scala una ascesa al Parnaso si incomincia dai provenzali difficili Ardui Arnaut Daniel l'inventore della Sestina che Dante ha messo alla fine del 26esimo canto del Purgatorio come il miglior fabbro del parlar materno Petrarca conosce la commedia di Dante che gli ha fatto conoscere Boccaccio è un intrico meraviglioso è un annodarsi di esperienze umane scientifiche direi quasi e culturali che tocca le vette assolute della nostra cultura e allora vedete che i primi tre Petrosi e Aspri e gli ultimi due Stilnovisti diciamo così eleganti soavi dolci eccetera bene tutto ciò è come dire mediato da questo un po' cicciottello simpatico che si mette da un canto ma è consapevole del proprio genio Giovanni Boccaccio siamo proprio alla conclusione ma vogliamo caro Maurizio ringraziandola ancora una volta di questa bella occasione che ci ha offerto e speriamo che Martin Eisen e altri la possono vedere anche in America in altre parti del mondo vogliamo chiudere con una strana pagina questa è l'ultima pagina della commedia che oggi si trova a Toledo che è la prima delle tre che Boccaccio ha copiato un piccolo fulmen in clausola una piccola sorpresa per voi ascoltatori che non siate specialisti perché gli specialisti oramai la sanno vedete oggi se si va a Toledo questo è quello che appare se guardate in alto vedete che c'è scritto Poeta Sov no? pagine completamente bianche ma Marco Cursi il maggiore specialista di Boccaccio che abbiamo autore lo ripeto di questo meraviglioso libro apparso da Viella Marco Cursi insieme con dei collaboratori un giorno andò in Spagna a Toledo aveva già visto questo libro tante volte ma disse ma come mai quelle lettere Poeta Sov e guardando bene si accorse che sotto doveva esserci qualcosa e fece un'operazione che è la stessa che fanno alla Conad o alla Coop le commesse che mettono la moneta da 50 euro sotto i raggi ultravioletti per vedere se c'è la filigrana fece questo ci mise una lampada di Wood questo signor Wood ha inventato una lampada e guardate cosa venne fuori vedete in alto Poeta Sov riguardatelo adesso questo è quello che si vede a occhio e questo è con la lampada a raggi ultravioletti c'era un disegno meraviglioso e allora incominciarono a capire a studiare a cercare ma chi è questo signore e poi vedete bene che sotto il disegno ci sono delle lettere ci hanno messo un anno Marco Petoletti e un altro suo collega a capire e a trascrivere lettera dopo lettera sotto questo meraviglioso ritratto probabilmente di mano di Boccaccio chi è forse Eomero poeta sovrano ecco come si interpreta quel poeta sov con il verso con cui nel quarto dell'inferno Dante esalta il primo grande poeta di ogni canone Omero poeta sovrano accompagnandolo Virgilio entra insieme a Dante in questo gruppo dei poeti antichi ed è come se in questo momento Boccaccio finita di copiare la commedia avesse avuto un'idea quasi di fare una specie di frontespizio nell'ultima pagina quasi un disegno in onore di Dante che la corona da allora non l'ha avuta mai a differenza di Petrarca sul Campidoglio e allora questo Omero poeta sovrano che ha la vedete bene corona da loro è un Dante Omero poeta sovrano disegnato di suo pugno da Giovanni Boccaccio che è noto era un disegnatore meraviglioso subito sotto Marinelli Tempesta e Petoletti hanno tratto queste lettere che vedete sotto il disegno si intravedono così palamente e le hanno trascritte vi ho detto c'è voluto un anno per capire una lettera dopo l'altra con la lampa di Wood e c'era scritto Ioannes De Certaldo Pinxit con caratteri greci è un giochino come quelli che si facevano a scuola chi non lo ha fatto di mettere il proprio nome appena si imparava l'alfabeto greco al liceo classico si scriveva non so Corrado Bologna Lorenzo Fabiani Maurizio insomma ognuno si scriveva il suo nome con le letterine greche così ha fatto Giovanni Boccaccio sotto il ritratto di Dante che incarna Omero poeta laureato e c'è scritto io l'ho dipinto io sono Giovanni da Certaldo cioè Giovanni Boccaccio e chiudiamo proprio con un piccolo fulmine a ciel sereno Marco Cursi ha studiato un libro che è a Venezia alla biblioteca marciana in cui Petrarca e Boccaccio amici insieme come vedete lo studio molto recente di 5-6 anni fa 7 anni fa oramai questo libro è stato scritto da Leonzio Pilato che era un signore diceva Petrarca un po' puzzolente si lavava poco era un meridionale insomma lo trattava male con la sua altezzosità mentre Boccaccio che era molto più alla mano prese Leonzio e gli disse Leonzio insegnaci il greco e allora abbiamo questa straordinaria scoperta recente che era già stata fatta ma viene perfezionata oggi da Cursi su questo libro che è autografo di Leonzio Pilato abbiamo insieme Liliade e poi qui l'Odissea con il verso greco e tra una linea e l'altra un po' come si faceva con il Bignami con i libriccini che avevano le trascrizioni sopra ogni parola anche loro lavoravano così imparavano il greco facendoselo tradurre in latino da Leonzio Pilato ecco questa è una cosa molto rara che pochi conoscono Boccaccio e Petrarca amici studiano Dante ma studiano anche Omero quel poeta sovrano che in qualche modo è incarnato modernamente da Dante e se lo studiano in greco e se lo postillano in latino tutte e due lo postillano sullo stesso libro in questo strepitoso codice oggi a Venezia troviamo la mano di Petrarca e sette otto anni fa Marco Cursi ha riconosciuto mi pare ventuno postille di Boccaccio in latino a Omero eccole qua mirror ec cum ali bisepius dic atomerus ulix em fuisse apul circem Boccaccio quello lassù che vedete poi cancellato incorniciato in rosso si fa un appunto mentre sta studiando a proposito di Circe e Ulisse nella Odissea decimo libro mi pare una scoperta sfolgorante che viene per così dire a integrare questo ruolo questa funzione dei due amici poeti scrittori editori tutti affacciati verso la meraviglia che rappresenta Dante e io penso che su questo su questa immagine possiamo concludere il discorso esaltando il genio di Giovanni Boccaccio che è riuscito finalmente a ricomporre insieme Omero Virgilio Dante Petrarca è piccolo di fianco ma fondamentale se stesso e grazie a Martin Eisner che ha messo insieme questo ottimo libro grazie a Lorenzo Fabiani che lo ha tradotto e insieme lo abbiamo presentato e spero che questa questa presentazione vi abbia convinto che vale la pena di andarselo a leggere direttamente il libro e quindi ricordiamo per i distratti il titolo che è Boccaccio e l'invenzione della letteratura italiana tra Dante e Petrarca pubblicato da Salerno editrice da pochissimo a cura di Lorenzo Fabiani e di Corrado Bologna che abbiamo avuto nostri graditissimi ospiti e che io ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove potete trovare oltre ad articoli e recensioni anche i video che abbiamo realizzato finora grazie ancora entrambi a tutti scusate se abbiamo un po' debordato dai confini ma c'è tanta 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 materia mi pare anche appassionante grazie a lei Maurizio grazie a tutti 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 grazie a tutti